la ragazza sposò il vecchio e questa è la storia del vecchio lui è che ci ha voluto danzuraio lui è che la bella giorni ce l'ha voluto picchia a zecchida bene nella mia, a zecchida bene nella mia quando chiuda la chiesa lo spusaje, quando chiuda la chiesa lo spusaje lui è che la dretta a dretta non poteva camminare a zecchida bene nella mia a zecchida bene nella mia, a zecchida bene nella mia quando chiuda la tavola lo mangia, quando chiuda la tavola lo mangia lui è che le cose le poteva rusacare a zecchida bene nella mia, a zecchida bene nella mia quando chiuda la tavola lo mangia, quando chiuda la tavola lo mangia quando chiuda la tavola lo mangia, a zecchida bene nella mia, a zecchida bene nella mia e uno nella mia, a zecchida bene nella mia, a zecchida bene nella mia e io non voglio non vestere un gommelone, e io non voglio non vestere un gommelone e oggi che la so spusata a me ci vuole un bellicione ma va a dirsi vecchio mio, va a dirsi vecchio mio lui è che sentiene tutte sti parole lui è che sentiene tutte sti parole ci metta a chiagna il neve, mamma mia com'ai a fa che sfortuna madonna mia, che sfortuna madonna mia a questo punto quel vecchio piagna la ragazza si commuove e verso le tre e mezzo, le quattro la ragazza chiamò il vecchio e disse e usci vecchio mio, tonnicchia niente e usci vecchio mio, tonnicchia niente e come sia sia eppure te voi accuntandà a zecchida me ci vecchio mio, a zecchida me ci vecchio a zecchida me ci vecchio mio, a zecchida me ci vecchio mio a zecchida me ci vecchio mio, a zecchida me ci vecchio mio a zecchida me ci vecchio mio Michele, adesso crediamo che sia veramente terminato c'è una signora dell'organizzazione che si appresta a portare un mazzo di fiori per il 76enne pensate 76 anni portati benissimo di Matteo Salvatore da Apricena ma potrebbe essere potrebbe venire anche dal da Austin nel Texas o da un'altra località di profondo blues lui che noi riteniamo sia un vero e proprio folk singer folk blues grazie 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 Grazie.